ciao a tutti e benvenuti in un nuovissimo video questo video finalmente lo aspettavo da tanto è arrivato e il video del mio albero di natale oggi il primo dicembre quindi mancano 24 giorni esatti a natale e come vedete sono in preparazione albero ovviamente l'ho montato però ovviamente devo aprire tutti i rami quindi diciamo che la cosa che mi annoia di più dell'albero di natale è questa perché decorarlo mi piace tantissimo però forse aprire tutti i rami mi annoia un po però purtroppo va fatto e niente ovviamente vi faccio vedere passo per passo adesso l'ho montato poi vi farò vedere quando aprirò tutti i rami e insomma poi lo andrò a mettere in questo angoletto qua vicino alla scrivania insomma perché l'anno scorso l'avevo fatto là dove c'è il termosifone solo che ora l'anno lo posso fare perché come vedete c'è il mobile e quindi ho cambiato posto anzi devo dire che in realtà è meglio qua perché diciamo che la appena si entrava c'era la porta che lo oscurava mentre qua è molto si vede si vede di più perché appena entri dalla porta si vede l'albero quindi perfetto poi ho messo adesso ve lo faccio vedere meglio ho messo un'altra decorazione piccola qui un alberello un alberello piccolo con il presepe sotto perché diciamo che io il presepe non lo faccio per il semplice fatto che ho poco spazio e quindi c'è già quello insomma e faccio e faccio così poi appena si entra dalla porta invece c'è questo qui che l'ho messo come decorazione natalizia fuori ovviamente non lo posso mettere perché non non posso bucare la porta insomma e quindi l'ho deciso ho deciso di metterlo qui tanto la porta la maggior parte si chiude sempre o si chiama o si apre si chiude sempre fuori qua la chiudo solo io la sera però quindi l'ho messo qui l'ho messo qui insomma ed è molto carino mi piace è una decorazione che in realtà non l'ho comprata ma mi sembra che me l'hanno tipo regalata non mi ricordo bene comunque l'ho messa qui e basta poi come decorazione non ho messo più niente ora mi tocca fare l'albero ovviamente ecco qua allora l'ho aperto tutto e non è tanto alto perché è un metro e cinquanta quindi va benissimo ora devo ancora aggiustare un pochettino per vedere giusto qualche buchetto perché noto che di qua ci sono più rami e di qua ce n'è di meno non so se lo notate anche voi ma io lo noto poi vedo se c'è qualche buchetto tanto questa parte andrà dietro e questa parte andrà avanti sì comunque stiamo ce la sto facendo è ora ovviamente prima metto le luci e poi tutto il resto ecco qui ho messo le luci ovviamente la parte davanti almeno io lo decoro così diciamo che la parte davanti è quella più bella diciamo la parte dietro quella un po più bruttina ecco diciamo così credo che ormai si decoli così l'albero quindi perfetto comunque adesso vado a mettere le palline ovviamente io ancora quelle dell'anno scorso perché sono bellissime quindi e quindi faccio faccio con quelle dell'anno scorso ci ho anche i fili d'angelo però quelli ovviamente li metto all'ultimo e poi la stella che è il puntale anche quella la metto all'ultima ora vado a mettere prima le palline e poi vi faccio vedere come è venuto con le palline che ovviamente sarà più più pieno perché adesso così è un po spoglio un po un po triste ovviamente con le palline diventa diventa più bello eccolo qui palline messe come si può ben notare l'albero si è riempito molto ovviamente ho messo anche delle palline di qua e poi anche di là ok mi stava per cadere una cosa meno male che non è caduta comunque questo qui ora metto i fili d'angelo e la stella e poi ovviamente vi faccio vedere il tutto però è venuto molto molto carino eccolo qui finito bellissimo mi è piaciuto tantissimo come è venuto quest'anno ho preso una nuova cosina come vedete ho preso il copribase perché l'anno scorso non non ce l'avevo insomma non l'avevo preso mentre quest'anno l'ho trovato un prezzo fantastico quindi l'ho preso e l'ho preso rosso perché diciamo che ho voluto fare un po contrasto con l'albero visto che l'albero era già appunto argentato e color ghiaccio diciamo ho voluto prendere appunto il copribase color rosso così diciamo fa un po più di contrasto con l'albero perché se prendevo ancora anche il copribase bianco poi mi sembrava cioè mi sembrava troppo spento ecco diciamo così quindi invece col copribase rosso mi piace da morire ora vi faccio vedere nel dettaglio vedete ci sono questi piccoli alberelli e la renna carinissimo e poi insomma le palline abbiamo quelle lì argento dei normali queste qui con dei fiorellini queste qua fatte tipo a sfera diciamo queste qua queste qua sono le mie preferite sono bellissime ancora queste brillantinate insomma poi alla fine sono quasi tutte uguali le palline e poi ovviamente abbiamo il puntale che è la stella che è argentato ovviamente non poteva mancare comunque bellissimo a me piace da morire bello bello ovviamente ho messo tutto a posto già ho messo tutto lì e niente quindi questo è il mio alberello spero che vi piace mi raccomando iscrivetevi al mio canale e noi ci vediamo al prossimo video ciao 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 There is just one thing I need I don't care about the presents Underneath the Christmas tree I just want you for my own More than you could ever know Make my wish come true All I want for Christmas Is you I don't want a lot for Christmas